I giovani che cercano Gesù Cristo, i giovani che hanno sete di Lui, i giovani che forse senza volerlo stanno cercando Gesù come risposta profonda della loro vita. Io dico con assoluta certezza guarda il Cristo è dentro di te, tu sei il tempio vivo della sua presenza, là nel profondo del tuo cuore Lui sta sostenendo la tua esistenza, ti sta donando il suo amore ed è quell'amore che ti fa esistere ed è quell'amore che ti sostiene anche se tu non percepissi mai la sua presenza, anche se tu non lo conosci, anche se tu non ti interessi di Lui, Lui è di come la ragione profonda della tua esistenza, sei abitato dal Cristo vivente. Perciò io ti suggerisco che quando ti trovi nei momenti difficili forse solo, sola, tu possa dare uno sguardo nel profondo del cuore e affidarti al suo amore, non rimarrai veloce, troverai sempre una risposta. Grazie a tutti.